C'è una lunga fila di persone per i buoni pasto nel centro di Teramo. Sono in tanti ad aspettare sulla via che porta all'ufficio protocollo, un'immagine che disegna la situazione di bisogno che si respira in città. Già 500 le domande presentate al comune, molte sbagliate che dovranno essere rifatte e le prime 66 pronte per essere erogate. Il sindaco d'Alberto spera di poter soddisfare almeno mille domande con un budget di 324 mila euro. Ogni nucleo familiare in media dovrebbe arrivare a percepire circa 300 euro. Un dato sociale importante sta però emergendo a Teramo. La platea dei bisognosi si allarga ai giovani disoccupati e alle donne separate con i minori. Le persone che in questo momento hanno più difficoltà economica e che quindi hanno meno risorse per acquistare beni di prima necessità, quale il cibo, sono persone nuove. Sono persone nuove che non sono le solite persone che vengono seguite dagli uffici del sociale o da altre associazioni di volontariato. Ci stiamo accorgendo proprio che questo Covid sta contagiando in realtà l'economia più intima della famiglia. Non solo persone single ma anche e soprattutto sto notando che ci sono tanti nuclei di famiglie giovani, di giovani ragazzi che hanno bambini piccoli e che magari fino al momento Covid stavano facendo dei lavori precari, dei lavori saltuari, dei lavori magari a intermittenza, dei lavori con un contratto a tempo determinato e che quindi con questa interruzione drastica dell'economia nazionale, dell'economia, hanno subito notevoli disagi. L'assessore al sociale Ilaria De Santis ribadisce che a soffrire in questo momento di bisogno sono soprattutto le donne single con bambini a carico. La mamma con un bambino in casa separata dal marito ha una doppia emergenza nel senso che lei magari ha perso il lavoro e il marito sta guadagnando di meno e quindi anche il mantenimento per il bambino diventa sempre più basso e quindi chiede un aiuto da parte del Comune ma quindi da parte del Governo. E poi il messaggio finale a tutti i cittadini, non vergognatevi di chiedere aiuto. Non dobbiamo vergognarci a chiedere un aiuto in questo momento perché siamo tutti quanti sulla stessa barca.